Siamo arrivati alle giovani generazioni, in quanto noi come associazione riteniamo che proprio dall'educazione delle giovani generazioni parte la vera integrazione e l'integrazione parte considerando la persona prima di tutto, al di là della disabilità e delle giovani, ognuno di noi può essere una risorsa per tutta la società e le quotidiane attività, anche nella nostra sede di viaggiata, ma non solo, lo dimostrano sempre di più. Poi devo dire anche che il nostro carissimo Presidente Sabine di Pasquale è veramente una persona che sa valorizzare le potenzialità di ciascuno, perché pensa a unire in persona al posto giusto. E' veramente, questa è una cosa molto positiva, perché ognuno di noi è diverso e ha diverse potenzialità e ha diverse potenzialità, però tutti siamo uguali nei diritti, nei diritti di cittadinanza. Ognuno di noi ha il diritto di essere cittadino a tutti gli effetti e si torna a dare le proprie ragioni dei suoi diritti davanti a chiunque e anche risorse ad ogni possibile difficoltà. Ehm, ok, direi che grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.